San Buceto e Villa si scontrano alla cittadella dello sport per cambiare marcia nel campionato di eccellenza abruzzese. Ronci si affida alla qualità di Miciche e Pellecchia davanti, Vitale invece a Giuseppe Paravati per trovare punti importanti in ottica salvezza. L'avvio è di marca viola ed il gol del vantaggio è subito servito con un calcio d'angolo a rientrare di Saverio Pellecchia. Il suo mancino supera il portiere ospite e trova un vantaggio clamoroso. Il Villa prova a reagire con una punizione calciata dagli Arocci quindi è ancora il San Buceto a mettere paura con un palo colpito sugli sviluppi di un corner di Miciche. Di lì a poco Rosati si divora il 2 a 0 di testa. Alla mezz'ora torna a farsi vedere il Villa con un buon pallone messo in mezzo dall'out di destra. Sullo stesso però non arriva nessuno. Quindi c'è di nuovo il San Buceto che testa l'estremo ospite Pichecchio con un tiro al volo di Miciche. La ripresa si apre con il Villa in avanti. Sul velo di Giuseppe Paravati Dedeo è attento. È il preludio al pari che arriva al terzo minuto con Liguori. Pallone in mezzo dall'out di sinistra, ancora un velo davanti a Dedeo ed è 1 a 1. Gli ospiti sorprendono ancora il San Buceto ribaltando la gara al nono minuto. Ancora un cross dalla sinistra, Frattini sbuca e fa 1 a 2. Il San Buceto si riversa davanti e riprende a giocare. Si deve attendere però il 34esimo per il 2 a 2 di Pellecchia e trova la doppietta personale ancora una volta su calcio piazzato. Nell'occasione il mister del Villa Vitale si fa espellere per proteste. C'è tempo ancora per un'occasione per il Villa e 2 per il San Buceto ma Pellecchia e Barrow mandano fuori. Al Città della dello Sport il finale è 2 a 2 tra San Buceto e Villa. Il risultato è positivo, ci prendiamo il punto dopo tante partite dove non raccoglievamo nulla. Un peccato perché forse a dieci minuti alla fine c'è stata una punizione un po' dubbia, però ci sta. L'arbitro valuta in un modo. Un peccato per i ragazzi perché anche oggi hanno dimostrato di dare tutto. Ancora più giovani oggi. Siamo venuti in casa del San Buceto, una squadra forte, però abbiamo fatto la nostra partita e a volte anche con molta qualità. I ragazzi avevamo preparato la partita tutta la settimana e l'abbiamo fatto bene anche il primo tempo. La nostra partita ovviamente contro una squadra forte. Il secondo tempo siamo rientrati con più fiducia, ho detto di osare, di non aver paura, di aver coraggio perché noi siamo una squadra che deve aver coraggio e deve provare a vincere in ogni campo. Poi peccato perché non siamo riusciti a portare a casa tre punti che secondo me oggi sarebbe stato proprio bello per loro perché se lo meritano e sono veramente orgoglioso di ognuno di loro. Sì mercoledì abbiamo subito una partita importante contro l'Alba. Noi dobbiamo lavorare e migliorare, come dico da sempre, la crescita si vede, è notevole e dobbiamo continuare su questa strada sereni e con tanta voglia di migliorare e con umiltà.